Ok, allora, così... Oi, Doc, ascolta una roba! Mentre io finisco qua, potresti fare un giro Scooby? Ehm, va bene! Ok, grazie mille, perfetto! Ok, con questi tre tappetini ho finito la casa di Doc! E cosa ci fa la Doc? Cosa sta facendo? No, no, Scooby! No! Ok, questa non te la perdono, questa me la pagherai! Ok, così, va bene, perfetto! Ehi, Doc, che succede? Che succede? Scooby è caduto della lava! No, come Scooby è caduto? No, ma come? Che è caduto della lava! Eccolo, ma non hai riservi! Io l'ho visto, arrivo pluffe ed è caduto giù! Va bene, va bene, va bene, va bene! Ah, comunque è bella la casa, molto carino! Sì, 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 vai, vai pure te, vai, vai! Va bene, grazie! Hey, Doc, una roba! Ehm, ascolta! Ehm, una cosa, prossima volta... Pensaci due volte prima di uccidermi il cane! Cosa? Che sei... No, 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 sei tranquillo! No, no, sei... Sei... Sei...